Tredicesima visita per Papa Francesco in una parrocchia romana, stavolta nella zona di Ponte di Nona, nella chiesa di Santa Maria Iosefa del Cuore di Gesù, visitata 15 anni fa anche da Giovanni Paolo II e situata nella zona periferica di Castelverde di Lunghezza, dove non mancano povertà e disoccupazione. In un clima di vicinanza e affetto, il Pontefice ha incontrato i bambini nel salone parrocchiale ed ha ascoltato le loro domande. Ha spiegato che per diventare Papa non bisogna pagare, né essere furbi, ma si è scelti dal Signore per rappresentare la chiesa. È necessario però essere buoni cristiani, sentirsi padre. Ha confessato che da bambino voleva fare il macellaio e che ha vissuto momenti difficili nella sua vita, come la malattia, a 20 anni. Le difficoltà si superano, ha detto, si va avanti con la fede, con la forza, con il coraggio. A seguire l'incontro del Papa con gli anziani e gli ammalati e con le famiglie assistite dalla Caritas, a quest'ultimo ha ricordato che ogni persona che viene a chiedere aiuto è Gesù, anche se chi bussa alla porta non crede, sparla e non va in chiesa. A chi ha bisogno è necessario rispondere sempre con tenerezza e amore. Nell'omelia della Messa celebrata in parrocchia, Papa Francesco ha rimarcato che il male si vince con il bene, il peccato con la generosità. La strada della santità passa dal perdono, dal benedire il nemico, anche se il rancore rimane. La preghiera è un antidoto contro l'odio, contro le guerre, queste guerre che incominciano a cassa, che incominciano nel quartiere, che incominciano nelle famiglie. Pensate soltanto alle guerre delle famiglie per l'eredità. Quante famiglie si distruggono, si odio, si distruggono, si odio per l'eredità. Pregare perché ci sia la pace. E se io so che qualcuno mi vuole male, non mi vuole bene, specialmente pregare per lui. La preghiera è potente, la preghiera vince il male, la preghiera porta la pace.